Sono state ore di grande apprezzione e di timore, quelle di mercoledì 18 per un centinaio di liceali, le loro famiglie, ma anche la scuola di appartenenza, scientifico e pedagogico Fermi di Catanzaro Lido. Una giornata lunghissima anche per il dirigente, professor Luigi Macri. In tanti anni di attività immagino un'esperienza veramente difficile. Sì, è stata un'esperienza concitata, difficile non più di tanto perché poi abbiamo avuto subito, immediatamente, contezza della situazione e quindi dopo pochi minuti dalla notizia, mi hanno chiamato due genitori alle 13.35, dicendomi del fatto che ero in ufficio, ho subito chiamato uno degli accompagnatori che mi ha rassicurato che i ragazzi erano già vicini alla nave e si stavano imbarcando. Quindi è stato più un momento di agitazione da parte dei genitori, l'incertezza, partono o non partono, ecco, tutte queste situazioni comprensibilissime perché ovviamente accendi il televisore, vedi che in un museo, in una città dove in quel giorno sono i tuoi figli, comprendo bene che è stato un momento difficile. Però ecco, l'opportunità di dare l'informazione giusta e di tranquillizzarli c'è stata, tant'è vero che noi già alle due meno un quarto avevamo sul sito l'informazione che i ragazzi erano sulla nave. Secondo lei è giusto che in queste situazioni lo spettacolo vada avanti, la crociera è ripartita, sperando che questo serva a cancellare il ricordo della brutta avventura? Ma guarda, io ritengo di sì, perché è stata un'esperienza forte per tutti, per i genitori che stavano qui, anche per i ragazzi lì, vedere quella situazione, anche a sentire parlare di persone che sono morte, persone che stavano anche sulla nave, perché così è stato. E però, ecco, il tornare indietro secondo me non avrebbe avuto senso e quindi nonostante il ritardo con cui è partita la nave, i ragazzi avevano questo obiettivo. Poi, guardate, questo è il famoso viaggio di istruzione di fine d'anno, è un momento di chiusura di cinque anni, di incontri, entrano bambini qui ed escono uomini, donne, quindi sono stati cinque anni insieme, vogliono avere un momento sociale, un momento di svago, di incontro e quindi è un momento bello che noi dobbiamo fare del tutto per fare in modo che questo momento sia il più sicuro possibile.